Purple Disco Machine, 8 e 17 minuti, ben ritrovati qui su Crystal Radio in diretta su Good Morning Milano come tutte le mattine Nella seconda parte di trasmissione Che bravo che stai diventando È il momento dell'ospite, oggi abbiamo ai nostri microfoni Valerio Pedroni, consigliere comunale di Milano Buongiorno consigliere, benvenuto qui in studio con noi Grazie e ciao a tutti voi E grazie della levataccia, so che vi chiediamo a volte di fare questa levataccia Tra l'altro nel giorno del suo compleanno, non so se possiamo dire Ah, tanti auguri allora consigliere, tanti auguri consigliere Adesso la levataccia è per mia moglie, perché c'è quattro figli da portare a scuola senza di me Ti senti in coppa? Non ce li dividiamo Ti senti in coppa Masieri? Ti senti in coppa? Se tu che mi fai contattare io Fai fare un bel messaggio forte a lei così è uno scuso almeno per oggi Chiediamo scusa allora alla moglie del consigliere Pedroni Allora tu Lorenzo, parlo con te Lorenzo, perché tu l'hai voluto fortemente Perché hai voglia di capire le dinamiche che avvengono nel palazzo No, giusto? Ho esagerato E poi soprattutto ha iniziato a seguire la sui social A un punto visto che è molto attivo da quel punto di vista Ci sono molti argomenti di quali ci piacerebbe parlare Prima della pausa proprio Abbiamo parlato appunto dell'ordine del giorno di ieri Sul fatto della bandiera di Israele, della Palestina, della pace Che si è trovato un accordo a fatica E appunto già fuori onda stavamo un po' parlando di questa vicenda Ma sì, allora diciamo che la questione intanto è estremamente complessa Lo sappiamo tutti Io, come dire, ho apprezzato il fatto che era una mozione Della minoranza, per cui del centro-destra Che si è presentato alcuni di loro con la bandiera di Israele Insomma facendo una cosa molto eclatante E quindi la richiesta di esporre la bandiera di Israele fuori dal Palazzo Marino Noi abbiamo fatto un emendamento Abbiamo chiesto un emendamento Alla mozione che invece Che accanto alla bandiera di Israele venisse apposta anche quella della pace Come è successo altrove, per esempio in Campidoglio Io francamente non me la sono sentita di votare A favore di questa mozione Anche emendata Nonostante l'emendamento lo ritengo doveroso Perché per me la bandiera di Israele ci può stare solo a fianco di quella della Palestina Sono abbastanza transcianzo questa cosa Perché bisognerebbe mettere fuori la bandiera della Palestina Ogni qualvolta succede un sopruso E purtroppo sono all'ordine del giorno Da parte dell'esercito di Israele Io credo che due stati devono fare un percorso verso la pace E si può fare solo se la volontà è forte da parte di tutti e due E credo che non sia possibile quando abbiamo due milioni e mezzo di persone stipate In pochi chilometri quadrati a Gaza Che è un cielo aperto, un carcere a cielo aperto Quando abbiamo 800.000 coloni che in territori occupati Occupano territori palestinesi Con il beneplacito del governo israeliano E seminano il terrore e la violenza su quei territori Per cui io credo che o ci stanno tutte e due le bandiere O ci va solo quella della pace Forse su questo ho un'idea un po' radicale Però ho fatto un po' fatica Non era l'unico che però aveva idee un po' radicali All'interno della maggioranza In questo caso la minoranza era ben unita nel chiedere Assolutamente Invece voi eravate un po' Però non è la prima volta che la maggioranza Si trova al suo interno un po' così Disorientata diciamo Sono gentile a dire disorientata Ma diciamo che noi discutiamo Siamo una coalizione plurale Poi anche all'interno del mio partito A volte abbiamo voci diverse Però devo dire che sulle cose importanti Siamo sempre andati insieme Ha nominato il partito Esatto Cogliamo l'occasione Esatto Visto che settimana scorsa È venuto fuori dal punto delle consultazioni Il nuovo segretario del partito democratico Della città metropolitana di Milano Che era colui che lei sosteneva Quindi Alessandro Capelli Alessandro Capelli Come e se cambierà la linea Del partito democratico milanese Con il nuovo segretario Beh intanto io credo che Noi abbiamo fatto cinque anni Con una segretaria estremamente capace Silvia Roggiani Che è una persona totalmente votata Alla politica Che ha fatto un lavoro eccezionale Tra l'altro siamo una federazione Un PD metropolitano In cui non abbiamo episodi Nessun tipo di episodio come dire equivoco Poi in alcuni comuni vinciamo In altri perdiamo Però credo che si è fatto un lavoro intanto Abbiamo una commissione Un dipartimento sulla legalità C'è un'attenzione scrupolosissima Sul tema dell'antimafia Della corruzione Cioè credo che da questo punto di vista Siamo una realtà locale molto forte e coesa Alessandro è in piena continuità Con il lavoro che ha fatto Silvia Che è stata la persona appoggiata da lui A me piace molto perché Alessandro ha una storia Tra l'altro anche molto Non è attraversato Stagioni diverse È una persona che crede fermamente In quello che fa E è riuscito a tenere insieme Comunque tante anime Da parte del partito Tanto è vero che ha stravinto Perché è arrivato quasi al 70% Per cui è andato molto bene E accentuali bulgare Diceva qualcuno Quasi bulgare Però sono contento Che non sia stato un congresso Una candidatura unitaria Ecco diciamo Perché le candidature unitarie Non fanno bene al dialogo Al dibattito Per cui benissimo che sia stato anche uno sfidante Santo Miniti Che è una persona assolutamente per bene Che sta facendo molto bene Il suo municipio Per cui alla fine è stata una bella sfida Ricordiamo Santo Miniti Presidente del municipio 6 di Milano Quindi si è in punto Ad affare Non è che Secondo me non si dispera più di tanto Ad affare ad affare ancora Non gli manca il lavoro Non gli manca il lavoro Prima di fare un passaggio sui CPR Volevo chiedere La SPAC Sostanzialmente Santo Miniti Si legge sui giornali eccetera Quello che rappresentava la Viena Un po' più riformista Diciamo E dall'altra parte Alessandro Capelli Diciamo più in linea Schlein Mettiamola giù così Questa spaccatura Questa spaccatura a livello nazionale Per quanto riguarda il PD milanese Cioè si ritrova Ma per niente Per niente Molto più coesa dice lei Ma io dico intanto Che non mi ritrovo molto In questa divisione Per cui Schlein È una sinistra più radicale E Bonaccini rappresentava Una sinistra più progressista Cioè certamente Bonaccini forse È una sinistra più di governo Perché è comunque un personaggio Poi la storia di Bonaccini È una storia che lui arriva Da tanto genitori Operai Padre camionista È una storia molto popolare Che poi è riuscito A prendere un'apertura più grande Ed essere oggi Un grande governatore Però anche Lee Schlein È un personaggio Che io seguo da moltissimi anni Che ha posizioni assolutamente Radicali Sulle cose in cui Dobbiamo essere radicali Cioè io credo Che un partito come il PD Non possa non essere radicali Sui temi sociali Cioè abbiamo un paese Che esiste Una città Che sta vedendo Una forbice di diseguaglianze Esplodere Abbiamo dei temi ambientali Enormi E noi ci permettiamo Di essere moderati Perché non sia possibile I tre temi Valerio Su cui secondo te Il PD deve essere radicale In questo momento Quali sono I tre temi radicali del PD Ma io dico Giustizia sociale Giustizia ambientale E poi io parlo anche Di giustizia intergenerazionale Cioè noi oggi Dobbiamo essere Un po' più coraggiosi Anche rispetto alle politiche Che danno in mano Potere Ai giovani E così Anche su quello Siamo molto timidi Abbiamo molta paura E dentro questa paura Però non stiamo crescendo Una generazione nuova Questi tre aspetti Non devono essere Degli interessi Di un partito Dovrebbero essere Interessi Di tutto l'arco Costituzionale Sì esatto Però non stiamo parlando Di Come lo dici sempre Ad esempio Sull'ambiente Inutile che ci dividiamo Destra e sinistra Secondo me Io l'ho Contro la narrazione Dell'ambiente Che porta A creare due fazioni Su un tema In cui Se si è diviso Non si va da nessuna parte Comunque vada Tutti e due ci perdiamo Non facciamo niente E' così Tu hai nominato i CPR Li ho nominati perché In una dichiarazione Fatta dal consigliere Lei ha detto che Il PD Il PD Milano Non starà zitto Sui CPR Certo Un po' di silenzio Però ogni tanto Lo sentiamo Intorno ai CPR Allora Facciamo Togliamo un po' Questo silenzio Non stia zitto Pedroni Dica qualcosa Sui CPR E' concepibile Che in una città Come Milano Nel 2023 Esista un luogo Come CPR Dove Diciamo Vengono annientati I diritti Basilari della persona Ma allora Io dico che al CPR Bisogna andarci Per conoscerlo E capirlo Io al CPR ci sono andato Con il mio collega Daniele Naum E la situazione E' una situazione Che io credo Inaccettabile Cioè le persone Veramente Vanno fuori di testa In un CPR Perché ci vanno persone Che non hanno Non devono stare in carcere Perché una persona Che commette dei delitti Deve stare in carcere Nel CPR ci vanno Quelle situazioni Questa cosa Non si può dire Però sono quelle situazioni Perché è chiaro che Se il tema È la detenzione Amministrativa Cioè tecnicamente Quando una persona Non può stare sul territorio Italiano Deve essere espulsa Per cui io in quel periodo In attesa dell'espulsione Dovrei detenerla Per via amministrativa Non in una situazione Carceraria Per cui non posso Mettere in carcere Una persona Che non ha commesso Un reato Ma un tema Di allontanamento Amministrativo Allora cosa succede Dato che i numeri Sarebbero altissimi Delle persone Che andrebbero espulse Stando a questa Pazzesca legge In cui siamo ancora Schiavi Di una legge Che andrebbe Totalmente rivista Che è quella Sull'immigrazione Quindi non ci possono Stare tutte le persone Ci vanno Ci vengono messe Quelle persone Che le forze Dell'ordine Identificano Come facciano rose Come persone Che comunque Hanno una storia Di delinquenza Di un certo tipo E per certi versi Meglio tenerli In un luogo chiuso E cercare di spellerli Veramente Il tema è quello Che non funziona Per niente Perché è quello Che poi succede Che nella gran parte Dei casi Non si riesce A rimandarle a casa Per mille motivi Accordi bilaterali Perché spesso Non si capisce Neanche da dove venga Quella persona Vengono rimesse In libertà Molto molto più Arrabbiate di prima Per cui quello Che si ripete È quella storia Di recidiva Che abbiamo tra l'altro Già nei carceri Quando non applichiamo Delle formule Mitigative E riparative Che arrivano Più arrabbiati di prima E commettono i delitti Per cui a questo punto Si possono meritare Il carcere Per cui finalmente L'obiettivo Di mandarle in carcere L'abbia raggiunto Tanto che non è l'obiettivo Quello di mandarle in carcere E da questo punto di vista Abbiamo studiato Delle situazioni Io intanto ne parlavo Anche con gli amici Da Camera del Lavoro Ed altri Ci piacerebbe fare Un'iniziativa In cui proporre Delle formule Anche per queste persone Che dobbiamo anche dirci C'è un tema di sicurezza Non possiamo Metterci le fette Di salame davanti agli occhi Non voglio nemmeno fare Quello buonista Per cui tutti fuori Tutti tranquilli Tanto non succede niente Sappiamo che non è così Per cui ci sono persone Che hanno un atteggiamento Di prevaricazione Verso i più deboli Perché la sicurezza Per me è quella Difesa dei più deboli Verso Da parte dei più forti Che hanno un atteggiamento Sbagliato Allora dico Applichiamo delle formule Riparative Che esistono Noi abbiamo Delle modalità Per cui possiamo fare Trascorrere del tempo Alle persone Che hanno commesso Dei liti Che hanno dei comportamenti In un certo tipo Per avere anche Un obiettivo educativo Ecco io credo Che dobbiamo puntare a quello Che significa Avere in mente Che c'è anche Un tema di sicurezza Chiarissimo Chiarissimo Noi saremo a vedere La risposta Della rete No CPR Che ci segue tanto Quindi Pedroni arriverà sicuramente La risposta anche da loro Perché ci seguono So che sono sempre Quasi Però il tema Per me era quello Che questo governo Ha parlato di ampliare Fino a 180 giorni A permanenza Allora dico Se per un tempo limitato Gli attuali 60 giorni 90 giorni Può essere 90 giorni Per 180 Imparano di portarlo A 18 mesi 18 mesi Per cui Diventare un tempo Così lungo Per cui se in qualche modo Possiamo dire che Turandoci il naso Accettiamo la situazione attuale Anche se non ci piace Immaginare di estenderla Così tanto Io credo che a quel punto Stiamo pienamente Ledendo l'articolo 13 C'era la Costituzione Oh beh Questo chiarissimo Direi che più chiaro Non poteva essere Noi continuiamo Noi continuiamo ancora A parlare con Il consigliere Pedroni Continuiamo dopo Una piccola pausa Appunto siamo ragazzi Alla mezz'ora Quindi piccola pausa Con un po' di musica Qualche consiglio Come dico sempre Per gli acquisti E poi Dorniamo comunque Sempre qui su Crystal Radio Con ancora Il consigliere Pedroni E tante domande E parliamo anche Di sicurezza Parliamo anche Dell'incorcio di Viamman Forte So che oggi Ne parlano tutti Ne parlano tutti Quindi non possiamo Esimerci dal parlarne Allora andiamo avanti Adesso è Ben Harper Ground or Down 8.29 Crystal Radio Singuini tattici nucleari Coca Zero 8.38 minuti Di nuovo qui su Crystal Radio Ancora qui In compagnia Del consigliere comunale Valerio Pedroni E so che Hai delle domande Caro il mio Lorenzo Sì abbiamo Accennato il discorso Sulla sicurezza Quindi volevo sapere Il suo pensiero Sulla nomina Di Franco Gabrielli La destra parla Di commissariamento Se ne parliamo spesso Lorenzo non dorme La notte per questa cosa Quindi Devi dare una risposta Perché non ce la fa E' sempre simbolico forte Ok perfetto La nomina Ma allora guarda Io intanto credo che Non sia un commissariamento Di due assessori Ai servizi sociali E alla sicurezza Dato che la nomina è Sulla sicurezza E sulla coesione sociale Perché io credo che noi oggi Abbiamo E lo dico Veramente credendo Quello che sto dicendo Che sono due tra i migliori assessori Che abbiamo In giunta Lamberto Vertole Sulla servizio sociali Marco Grena Sulla sicurezza Sta facendo un lavoro enorme Si formerà un tavolo Se non sbaglio Con anche Gabrielli Il sindaco Gabrielli è una figura Che il sindaco Ha individuato Perché ha evidentemente Una storia Molto importante Che possa dare Delle suggestioni Dei consigli Che possa affiancare Questo percorso E va benissimo Perché guarda Io Figurati Anche quello di cui Abbiamo parlato Io credo Fermamente Sul tema Che noi oggi La sicurezza La costruiamo Innanzitutto Abbassando le diseguaglianze Perché evidentemente Se abbiamo Un paese In cui Una città In cui da una parte Ci sono le persone ricche Ricchissime E dall'altra Ci sono delle file Sempre più lunghe Alla mensa Di poveri Persone veramente Povere Radicalmente povere Evidentemente Si alzerà La storia Del conflitto sociale Ma questo lo vediamo In tutte le grandi metropoli Per cui Il primo modo Per creare sicurezza È quello di abbassare Questo livello di conflitto Che le diseguaglianze Creano Poi dall'altra parte C'è un tema Di pericolosità In alcune zone In alcuni momenti del giorno Non dobbiamo nascondercelo Nonostante Milano E dobbiamo dirci anche questo Si è enormemente migliorata Da quando avevamo Lo sceriffo decorato In cui Milano si svuotava C'era il coprifuoco La sera E lui pensava Di creare sicurezza Sgomberando Dei gruppetti di Rom Che giravano dalla città Non so se vi ricordate Ecco io c'ero In quel tempo Quello era il suo modo Di interpretare la sicurezza Che non creava Non faceva nulla Sennò addirittura Aizzare un gruppetto Che se non delinqueva Perché faceva lemosina Gli veniva voglia di farlo Ecco Oggi la situazione È sicuramente migliorata Però è innegabile Che dentro questo Livello di città Come oggi Il tema c'è Allora io credo che Noi dobbiamo lavorare In modo molto forte Sul tema delle eseguaglianze Con un progetto Di sviluppo economico Poi se abbiamo tempo Parliamo anche Della commissione speciale Sulla economia civile Di cui sono presidente Sono un po' il mio orgoglio Però credo che ci sia anche Un'attenzione al presidio Il presidio ci vuole Da questo punto di vista Io ho depositato E è stato approvato Un ordine del giorno Un annetto fa Anche con il mio collega Michele Albiani Che è il mio collega Del partito democratico Presidente della commissione sicurezza In cui noi chiedevamo Che al corpo dei vigini Venga somministrata Una formazione Sulla mediazione Dei conflitti Sull'intercettazione Precoce Della violenza domestica Per creare Quell'idea Di vigile di quartiere Che non è il vigile Rambo Il vigile con la mitragliatrice Che mette sicurezza Mette tranquillità Perché ha un armamentario Infinito Alcuni quando si vedono Scendere con queste Cac Ti ho paura Ti immagini che lanciano Una granata Esatto Bravissimo Quando vai Ferma il bambino in bici Boom una granata Quando vai a Gerusalemme Tornando all'esempio Dell'inizio Vedere Tra l'altro ragazzini Con la mitragliatrice Non è che ti metta Proprio particolare Senso di sicurezza Invece io credo che È importantissimo Che sappiano leggere Il conflitto Spesso parliamo di ragazzini Di seconda generazione Che arrivano dalle periferie Arrabbiati Contro tutto e tutti Che se possono Combinare un guai Lo fanno Ecco io credo Che su quei ragazzi Non è che li prendiamo Manganellate Cioè noi dobbiamo Imparare a parlarci Questi ragazzi Perché se non ci parliamo Le cose peggiorano Ecco io credo che questo Sia un passaggio Dall'altra Noi dobbiamo integrare Le nostre forze Con quelle delle altre Forze statali Perché la polizia locale Di Milano Ha il principale mandato È sulla sicurezza statale Per cui sulle multe Questo è il principale mandato Poi è un corpo di vigili Molto ampio Abbiamo anche la polizia Investigativa Per cui vengono fatte Anche delle indagini Però chi dovrebbe Gestire questo tipo Di sicurezza Sono altre forze Io credo che Quello che dobbiamo fare noi È il presidio Il presidio del territorio Basterebbe quello Per avere una città Più tranquilla È un lavoro Che stiamo cominciando a fare Credo che quell'ordine del giorno Sia un passo Nella direzione giusta Ha nominato la commissione Speciale dell'economia civile E responsabile Di cosa la trattate E poi mi diceva appunto Lei è molto orgoglioso Di questa commissione Che presiede Giusto? Beh dovremmo fare Se volete poi Lo facciamo più avanti Una puntata Ma volentieri Perché è un tema molto Però te la dico Proprio in maniera pop Ecco Cioè noi oggi abbiamo Una città Che ha costruito Uno sviluppo De la Milano Che cresce e aiuta Se volete è stato anche Il primo anno di mandato Del sindaco Sala Cioè Milano cresce Con uno sviluppo potente Anche da un punto di vista Finanziario Attrazione finanziaria E dall'altra parte Ha bisogno di investire Moltissimo sul welfare Perché questo modello Di sviluppo Crea dei costi sociali Crea degli scarti sociali È il famoso modello Milano No? Ma diciamo che È un modello Diciamo che è un modello Che ha costruito Il successo della città Non solo della nostra Anche di altre città europee Che però oggi evidentemente Va rivisto E io credo che Il modo di vederlo È pensare Immaginare Un modello di sviluppo Che non crea I scarti sociali In cui il tema Dell'inclusione Sia fondativo Poi questo In maniera molto concreta Non è filosofia Cioè vuol dire puntare molto Sull'imprenditoria sociale Sulla cooperazione sociale Sulla finanza etica Sul modello Di imprenditoria civile In cui la CSR Cioè il tema Della responsabilità sociale Gli ESG Come vengono chiamati Cioè il tema Di un'attenzione all'ambiente Al sociale E al governo Cioè come tratto I dipendenti Sia non Un modo di fare washing Ma sia un asse strategico Ecco E io credo che Noi possiamo fare Delle cose molto importanti Questa commissione Comincia a dire Che il Comune di Milano Vuole essere laboratorio Di questo modello Poi le cose da fare Sono tantissime Però abbiamo cominciato A mettere uno strumento Di visione politica Che io credo sia Un passo significativo Quindi la cosiddetta Milano a due velocità Comunque Cioè constatiamo Che è così Ecco noi Non funziona La Milano a due velocità Per cui O usciamo Da questa logica Oppure Il tema della sicurezza L'avremo ancora più forte Il tema della sicurezza Sarà ancora più forte Il tema delle file Davanti alla mensa Dei poveri della carica Sarà ancora più lungo Ecco Per cui non ne usciamo E tensione sociale alta Beh sì Come sempre In questi casi Bene Allora So che c'è un altro tema Che ti aveva colpito Quando abbiamo deciso Di chiamare L'assessore Che era una proposta Che ha fatto appunto Il consigliere Sulla Esatto Appoggia una petizione Che sostanzialmente Sostiene Di rivedere Il calendario scolastico Perché come sappiamo Va bene Oltre anche Diciamo La funzione di consigliere Quindi a me Mi piace questa cosa Che uno pensa in grande Complimenti Complimenti consigliere Un calendario più lungo D'Europa Insieme alla Danimarca E soprattutto anche Riferimento alla questione Delle diseguaglianze Perché poi Quei tre mesi E passa a casa Cosa diceva Questa proposta Beh siamo sempre lì È una petizione Che è stata Messa in campo Da WeWord Con Mamma di Merda Che adesso Il titolo Può sembrare un po' così Ma bellissima realtà Che sta facendo cose Molto interessanti Anche sul fronte comunicativo Ma è una cosa Molto semplice Cioè noi abbiamo Un calendario In cui ci sono 200 giorni Tutti attaccati Che è già tantissimo E poi abbiamo Tre mesi di blocco 14 settimane In cui quello che succedeva Una volta Era che c'erano gli oratori C'era la mamma Che rimaneva a casa Insomma c'era un tipo Di contesto Andava con i nonni al mare Chi poteva Andava con i nonni al mare Ma prima ancora Sono le ragioni Perché c'è questa cosa Perché i ragazzini Dovano andare A dare una mano Ai genitori Che ai padri Spesso che lavorano nei campi Per cui nasce Dentro questa storia Oltre che Oggi che abbiamo Una situazione completamente diversa Il tema è questo Che se te lo puoi permettere Ai tuoi figli In quei tre mesi Fai fare delle cose splendide Campus in inglese Li mandi all'estero Gli fai fare delle cose Per cui tornano a settembre Che hanno già Un'altra velocità Se non hai le possibilità E ahimè Questo vale A Milano In tutta Italia Molto peggio che a Milano Vale molto di più Tu rimani congelato Per tre mesi In cui quello che fai Se va bene Il compitini delle vacanze Se va bene Perché di solito Non fai nemmeno quelle E a settembre Ti presenti Che hai perso Un terzo Se va bene Di quello che hai imparato L'anno precedente Questo non vuol dire Lo dico chiaramente La petizione è molto chiara Che devono stare dentro Le classi al caldo Dei cambiamenti climatici Ma vanno pensati Dei piani Organizzati dalla scuola Soprattutto all'open air Immaginando dei campus Con degli investimenti Fatti insieme Alla cooperazione sociale L'associazionismo Perché tutti Bambini e bambine Ragazzi e ragazzi Possono fare delle cose Interessanti Belle Perché poi Quello che fai d'estate Ti rimane Talla vita E poi diciamo Hai detto una parola Che fa rizzare i capelli Molto Investimenti Non ci sono i soldi Non è vero I soldi in questo campo Volendo ci sarebbero C'è la possibilità Di fare cooperazione Appunto dicevi Nel terzo settore C'è tanto Che può aiutare In questo sviluppo Di questa idea Di un calendario Più aperto Diciamo Più lungo E più variegato Anzi mi sembra Che questa sia la proposta Certo Ma diciamo che Intanto va ripensato Alla scuola oggi Perché per come La scuola fa Quattro le parti Per cui noi Adesso l'abbiamo presa Sul tema dell'estate Ma se la penso Sul tema dei pomeriggi Cioè noi oggi abbiamo Il 50% nel nord L'80% nel sud Che il pomeriggio Anche alle elementari Non c'ha la proposta Oggi in cui noi Ospichiamo che la mamma Lavori Ma non solo per un tema Di reddito Ma perché Lo sviluppo umano Sia la mamma Che il papà Devono lavorare Cioè dentro questo modello Non sta più insieme Una proposta del genere Per cui è chiaro Che andrebbe Tutto rismontato Purtroppo non possiamo farlo Perché viviamo In un paese In cui i governi Durano un anno e mezzo E tu non puoi avere Un anno e mezzo Un ministro dell'educazione Sperando che ti riformi la scuola Ecco per cui Non è Udini O si cambiano le regole O rimaneremo schiavi Di noi stessi Ma non riusciremo mai A cambiare queste regole Perché non sei il primo Che ci dice Dovremmo riuscire a cambiare le regole Chiamatevi Tra di voi Io ero a favore Di un referendum Qualche tempo fa Che forse non è stato proposto Da una persona Particolamente simpatica Non so se vi ricordate Si chiamava Italicum Che aveva sicuramente Tante magagne Ma perlomeno Avrebbe garantito Un po' di stabilità A questo paese Io sono Anche Io sono molto sensibile A questo tema La stabilità Perché è l'unica maniera Per avere riforme strutturali Poi Piacere o non piacere Chi c'è su Però Cosiddetto governo di legislatura Forse No ma poi sono Quindi ci teniamo Il governo che c'è adesso Consigliere Va bene Allora Non esagerare Ecco lo facciamo appena dopo La riforma costituzionale È questo il problema Va bene Allora bene Chiudiamo allora così Chiudiamo Con una risata Io ringrazio tantissimo Il consigliere Pedroni Grazie di essere stato con noi Grazie a voi dell'invito Speriamo di rivederci Magari appunto Riuscendo a cambiare Chiamiamo qualche regola Ci stova Vengo con voi E cambiamole in maniera Bella Cioè non andando Con i martelli Con i forconi Come voleva qualcuno Cioè facciamolo appunto Attraverso le istituzioni Che appunto sono Sensibili Sperso a questi temi Quindi davvero Grazie mille Al consigliere Pedroni Grazie E noi Noi continuiamo Fra poco Perché ci salutiamo Perché stiamo per chiudere Quindi Mandiamo Gianni Ferlopez Che ci saluta E poi torniamo Per i saluti Appena dopo Gianni Ferlopez Cristal Radio 849 minuti 331 7853555 Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti